Cinema a luci rosse. Nelle prime file in platea si sentono dei strani versi. Si sente un signore. Allora, dopo questi versi le persone chiamano la maschera. Mascara, guarda che lì forse c'è un maniaco, c'è qualcuno nelle prime file che fa dei versi strani. Vado a controllare. La maschera si avvicina con la pila, illumina, e c'è un signore steso su tre sedie. Signore, scusi, mi dia il suo biglietto, grazie. Questo gli dà il biglietto? Signore, ma questo è un biglietto di galleria, lei cosa ci fa in platea? Sono caduto.